Oggi voglio parlare un po' del caso Guberti, ne voglio parlare ora che tutto si è chiuso, ma ne voglio parlare soprattutto guardando a quello che è stato in passato il linciaggio a cui è stato sottoposto il calciatore. Nell'intervista che oggi è stata pubblicata su L'Unione Sarda, intervista fatta al sottoscritto con Stefano, emerge che tra i dolori maggiori sono stati proprio quelli di dover sopportare l'agonia delle difamazioni nei suoi confronti. In questi anni in cui è stato coinvolto nel calcio scommesso, coinvolto con risultato per la giustizia ordinaria che non ha mai commesso il fatto, quindi con due soluzioni per due partite diverse, Stefano è finito nel meccanismo perverso della giustizia sportiva, quella giustizia parallela che talvolta ha delle altre logiche. Lui era un uomo che era stato portato nel grande calcio dalla Sardegna da De Nicola. De Nicola, sappiamo, ha un rapporto di parentela con Moggi e quindi in questo rapporto di parentela c'è nato un rapporto di fiducia. Tanto che lo stesso Guberti si è presentato, quando si è dovuto difendere dalle accuse che gli sono state rivolte al tribunale sportivo, con un avvocato che è parente dello stesso Di Nicola, quindi sostanzialmente con un avvocato che faceva parte del giro di Moggi. La punizione, a mio giudizio, è nata proprio per questa. In un settore sportivo in cui alla fine sono stati assolti tutti, anche i compagni di squadra che erano certamente più coinvolti, hanno ricevuto il beneficio della riduzione di pena perché hanno collaborato e ammesso, Guberti è partito da un presupposto. Io non ho fatto niente, per quale motivo devo ammettere una cosa che non ho fatto? E ha resistito. Questa sua resistenza, che è una questione d'onore, una questione di valori, una questione di rispetto anche nei compagni di genitori, perché poi dover ammettere una colpa, significa dover giustificare alle persone a tecare il perché hai fatto una cosa di questo tipo, l'ha pagata con tre anni di condanna purtroppo subita. Cioè nel senso che le due sentenze della giustizia sportiva hanno portato a un totale di quattro anni e mezzo di squalifica, di questi quattro anni e mezzo lui ne ha subito tre perché la prima sentenza di assoluzione a giustizia ordinaria è arrivata appunto dopo tre anni con la lentezza burocratica. Solamente dopo questa prima assoluzione, facendo percepire a giustizia sportiva di rischiare di entrare in un contrasto che diventava paradossale, è arrivata la grazia per assurdo, la grazia su una condanna che nel frattempo la giustizia ordinaria stava definendo ingiusta perché non esisteva. E quindi la grazia su una condanna che non doveva esserci per poter non ammettere di aver sbagliato, per potersi salvare in questo senso. Guberti è tornato a giocare, nel frattempo è andato avanti anche l'altro processo, quello relativo proprio alla giustizia ordinaria per la seconda partita e nelle settimane scorse è arrivata quest'altra soluzione, anche questa con formula piena, con la formula del non aver commesso il fatto. Riflettiamo su queste cose e ci rendiamo conto che molte volte le giustizie parallele che nascono dentro gli organismi rischiano veramente di rovinarti più di quanto ti rovina la giustizia normale perché alla fine ti ritrovi veramente davanti a dei meccanismi perversi. Un po' quello che subiamo talvolta quando ci rendiamo conto che in determinati arbitraggi non c'è il senso di giustizia che ci dovrebbe essere per motivi di potere. Anche in questo caso probabilmente si è ripetuto questo tipo di meccanismo perverso, quello del potere che si alterna, passa da un gruppo all'altro e il gruppo che prende il potere successivamente deve necessariamente dimostrare che chi c'era prima era sbagliato e chi arriva adesso invece è giusto. Ecco cosa è successo, ne ha pagato un ragazzo che ha perso tre anni della sua carriera, forse i migliori perché ricordo che Guberti dopo essere cresciuto in campo regionale ha esordito ad Assemini con l'Asseminese in promozione, è passato poi all'Algero, dall'Algero alla Torres e poi quando la Torres è fallita era stato vicinissimo anche ai Cagliari. Non si erano messi d'accordo per una questione legata al fatto che il Cagliari voleva aspettare il fallimento della Torres per poter evitare di pagare il cartellino o comunque il passaggio di Guberti al Cagliari. Guberti ha avuto paura di rimanere a spasso e ha accettato il trasferimento all'Ascoli. Dall'Ascoli al Bari, dal Bari alla Sampdoria, dalla Sampdoria alla Roma e poi ancora il Torino, insomma tutte grandi squadre per Stefano e Guberti e nel momento più bello, prima un infortunio e poi questa condanna. Ora ritorna, ritorna con la faccia pulita, il suo rammarico però è legato a chi a suo tempo, soprattutto chi lo conosceva, ha creduto e lo ha difamato dicendo che praticamente era un disonesto. Questa è la cosa che gli brucia di più, anche se poi la cosa più importante, come dice nell'intervista, è la famiglia. Poter dire ai figli che hanno un padre onesto e non un padre disonesto che si vendeva le partite. Questo è senza dubbio la forza maggiore che ha trovato Stefano che dice in questa intervista una cosa ancora più bella. il calcio mi ha salvato, perché anche nel primo periodo quando tutto era buio, quando mi allenavo non pensavo a quello che stava succedendo. Per me il calcio è vita, non potrei mai rinunciare al calcio. Ecco, quella passione bambina che talvolta riesce a essere più forte di qualsiasi meccanismo perverso che riguarda invece il calcio industriale e dei grandi interessi.